Ecco, oggi è venerdì, allenamento dei pulcini, sono suddivisi in più gruppi, ecco, questo gruppo di mister Giulio Massimini stanno facendo una partitella fra di loro. Ecco, sono due, sotto lo sguardo vigile, il mister Giulio Massimini. Ecco, recupera la palla Giacomo, bravo, dai Filippo, bravo, fai gol, girati Filippo, girati, bravo Davide, bravo, dai, dai, attacca Davide. Ecco, bravo, bravo il portierino, bravo, attaccalo, cercato di superarlo però, cercato di superarlo, vado al portiere. Un minuto, un minuto, bravo Davide, girati, chi l'attacca Davide? Bravissimo, bravo, bravo, attaccalo! Ecco, un altro attacco, un ragazzino fugge da attaccante e l'altro da difensore. Ecco, bravo, metto le gambe, ecco. Bravissimi, chi devi difendere, chi devi difendere, Angelo? Bravo, Filippo, dai! Ecco, parte un altro ragazzino, in attacco. Bravo, Manuè! Difendi, difendi, Manu! Ecco, ne parte un altro. Difendi, Raffa! Ecco, un altro. Difendi, Davide! Bravo! Difendi, Giacomo! Sono superato, difendi, Angelo! Mito e balla! Ecco, bravi! 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 Ok, ok!